Ladies and gentlemen, your host for the evening, Mattia Ferrari and Federico Fusciante. It's nice to be here and to see so many familiar faces. L'unico che non potrò mai superare è il maestro Martin Scorsese. Ti amo, Martin! I love you, Martin Scorsese. You are the best. Stasera ho l'onore di consegnare un nuovo premio. L'Oscar per il miglior film degli ultimi 50 anni. Vediamo insieme la lista completa delle nomination. Taxi Driver Blade Runner The Shining The Pursuit of Happiness E il vincitore è Gabriele Muccino, con la ricerca della felicità. Basta, vaffanculo. Adesso farò una cosa che avrei dovuto fare a inizio serata, De. Uccidetelo. No, Fede, che cosa hai fatto? Frusciante! How dare you? Will Smith, stai buono lì. Io non sono Chris Rock. Prova a venire qui. Ti do un pugno che ti farà arrivare a Bel Air in due secondi, De. Get security in here now. Stai zitto, Tom Holland, con sto sguardo da pesce lesso. Il vero Spider-Man è uno solo e si chiama Tobey Maguire, hai capito? Tobey Maguire is the best. All right, way to go, Federico. Siete un mucchio di miliardari di merda che si applaudono a vicenda. Avete mai letto un libro? Conoscete Dostoevsky? Avete letto Memorie dal Sottosuolo? No! Voi credete di essere migliori di me solo perché avete i soldi? Solo perché state in questo posto di merda? Fede, ma non ti stanno capendo? Vaffanculo tu, mini fruscianti. Uccidete tutti tranne Scorsese e Tobey Maguire. E io, Fede? Anche tu morirai. È solo colpa tua se sono qui stasera. Fede, ti prego, no! Non voglio morire. Visto che sono un bravo ragazzo. Ti concedo di salutare i tuoi cari. Muoviti! Fede, ti prego, no! Ho solo 35 anni, ti prego! E poi... E poi l'ultimo film che ho visto è stata Quella merda di Fast and Furious 10, ti prego, no! Non farmi questo! Vai! Come on, Alessandro Borghese! Non sono Alessandro Borghese, coglione! Chiedo scusa al pubblico, ma non mi va di parlare in inglese. Parlerò in italiano. Dico solo che... Non so cosa dire, so solo che voglio un mondo di bene alla mia famiglia, Ai miei amici, alla mia fidanzata E soprattutto a quelli che mi hanno seguito in tutti questi anni su YouTube. Vi voglio bene! E ho un'ultima cosa da dirvi Scusate se balbetto, ma non ce la faccio Sul sito di Pampling trovate come sempre tanti prodotti a tema nerd spettacolari Se all'acquisto di uno o più prodotti aggiungete un paio di calze E usate il mio codice sconto Le calze non le pagate! Frusciante Victor agli Oscar, recensione in un minuto Ho il cazzo duro ed è a culo coreandoli Basterebbe questo, ma cercherò di dire qualcosina in più Frusciante, come al solito si prende tutta la scena Con la sua dialettica pazzesca E i suoi emoti bulberi che fanno sempre sorridere L'uccisione di Victor? Sorprendente! Il confronto tra i due Spider-Man? Fantastico! Poi insulti, uccisioni, colpi di scena Non finire Wow, lo voglio rivedere, cazzo!